SIGLA Vi siete mai chiesti da dove veniamo? Dove stiamo andando? È giunto il momento. Della grande rivelazione. Otto pianeti. Otto sovrani. Otto lens. Le lens posseggono un potere immenso. Il DNA. La memoria dell'esistenza. Il nucleo della vita. È ora che i Lord si riuniscano per prepararsi al nuovo allineamento. Le galassie si sposteranno per procedere verso una nuova era. Questa è la storia vera. 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 Questa è la storia vera.